Poracci bentornati o benvenuti sul TG Poro, l'unico format di YouTube Italia dove si parla di videogiochi in fretta e furia. Quella di oggi sarà una puntata ricchissima quanto velocissima, quindi ringrazio al volo Toggi Retro Games per sponsorizzare anche questo video, mentre voi con una certa celerità siete gentilmente invitati a supportarmi, sopportarmi, ma soprattutto a darmi gli sordi. Bene, io ho detto tutto, iniziamo! In questa puntata un po' particolare c'è poco spazio per le notizie minori, ma vi garantisco che le recupereremo in un PoroCast quanto prima possibile. Intanto passiamo subito al riassunto dell'evento Xbox di qualche giorno fa. Magari vi sarete sentiti un po' smarriti e vi sarete chiesti, ma perché Poro non l'ha seguito in live? In realtà l'ho fatto, ma su Twitch, trattandosi di un evento minore. Comunque, se siete interessati, potete recuperare il VOD della live sul mio secondo canale, dove tra l'altro troverete anche la recensione di Echoes of Wisdom. Questo partner preview partiva già annunciato come un evento minore, ma come promesso si è trattato di un appuntamento incentrato esclusivamente sui giochi, dalla durata di 25 minuti, dove non si è perso tempo e non ci sono stati momenti morti, per fortuna. Ma si è trattato dell'appuntamento dell'anno? Assolutamente no, ma di roba interessante, almeno per i miei gusti, ce n'è stata. Vi dico, secondo me, quali sono stati i titoli degni di nota. L'apertura con la seconda espansione di Alan Wake 2 conferma la volontà di spingere ancora di più sulla vina horror della produzione, e ora è stata confermata anche la data di uscita prevista per il 22, la prossima settimana. Dopo il successo di critica e pubblico ottenuto con il remake di Silent Hill 2, Bloober Team ha presentato un nuovo titolo, che sembra essere un survival in terza persona che mi ha ricordato vagamente The Callisto Protocol, ma speriamo che questo Kronos sia più vicino ai lidi di Dead Space. Del gameplay purtroppo non si è visto praticamente nulla, però dai, abbiamo imparato che di Bloober un po' ci possiamo fidare. Qui so di andare controcorrente, ma il nuovo titolo di Like a Dragon, in stile piratesco, non mi dice proprio niente. Sembra un po' un black flag sotto acidi, o forse uno skull and bones che avrà successo. La cosa particolare è che ora la data di uscita è stata anticipata di una settimana, per non farsi schiacciare da Monster Hunter Wilds. Vibes non proprio positive anche per Mouse, pure se riconosco che il concept di un FPS in stile Doom con questo stile grafico sia stra-interessante. È solo che, da quanto visto nel gameplay e in generale nella resa finale dell'Hartstyle, secondo me non sembra esserci quel perfetto equilibrio che veniva raggiunto in Cuphead, che in più di un frangente è un chiaro punto di riferimento per questa produzione. L'uscita rimane prevista per un generico 2025. Grande annuncio quello di Subnautica 2, peccato che si tratti di un filmato in CGI, quindi per me ha valore pari allo zero come annuncio, mentre quello di Animal Well è uno shadow drop imperdibile. Cari Boksari, ve lo dice uno che ha adorato questo Metroidvania su PlayStation 5, giocatelo subito immediatamente. Di sicuro si tratta di una delle esperienze più coinvolgenti e difficili nel senso di impegnative di quest'anno. Avevamo bisogno di un altro musu simile a One Piece per un'opera di Hiromashima di cui non ricordo neanche il nome? Probabilmente no, cioè forse in Giappone sì, ma direi di andare avanti tra un ripoff di Immortals Fenyx Rising e un Souls generico più generico che non si può, o almeno da quanto possiamo capire da questo primo trailer. Per poi arrivare a un trailer super affascinante, quello di Will Ward, che sembra portare in un'esperienza full 3D quello che avevamo potuto vedere con l'ultimo Olly Olly. Se l'Hartstyle può ricordare la poesia di un Sable, basta mettere pausa nel momento giusto per capire che forse il punto di riferimento è più quello di South Park. Fasmophobia è un altro di quei cult inspiegabilmente assenti sull'ecosistema Microsoft che finalmente fa il salto e Wuchang, nonostante il nome che sembra la copia pezzotta di Wukong, potrebbe essere proprio quel tipo di action di cui mi sono re-innamorato grazie alla produzione Game Science. Lo aspetto con ansia. La chiusura con il primo sguardo al gameplay del titolo multiplayer di Remedy è stata un po' anticlimatica. Sono curiosissimo di provare questo firebreak, ma rimane un esperimento che potrà interessare pochissime persone. Se questo partner preview si fosse chiuso con qualcosa di più incisivo, avrei promosso la presentazione a pieni voti. Così è stato semplicemente godibilissimo dall'inizio alla fine e non è poco. Ad esempio è molto meglio del recente State of Play di Sony, non trovate? Fermi tutti, prima di andare avanti vi devo parlare dello sponsor di questo video, Otoji Retro Games. Tutti sapete quanto io sia un malato di retro gaming e un collezionista incallito. Per questo non può esserci uno sponsor migliore per questo canale di Otoji Retro Games, il mio sito di riferimento quando vado a caccia di retro gaming. Sul catalogo di Otoji, che si aggiorna ogni settimana, potrete trovare di tutto, giochi provenienti da ogni epoca e console, dai pezzi più ricercati fino ai titoli più comuni a cui magari siete affezionatissimi. Ma la cosa più importante è che Domenico di Otoji sa il fatto suo, è un grandissimo appassionato, sa cosa cercano i collezionisti e mette la massima cura in ogni spedizione. Sono queste le cose che per me fanno la differenza. Poi, se volete liberarvi di qualcosa, Otoji offre anche un servizio di ritiro dell'usato con proposte d'acquisto senza impegno. In descrizione trovate il link al sito, mi raccomando, guardatelo un po' e poi fatemi sapere cosa ne pensate. Grazie ancora a Otoji Retro Games per sponsorizzare questo video e andiamo avanti. Utilizziamo questo secondo blocco per parlare di Nintendo. Partiamo con una di quelle notizie sganciate completamente a caso, come se si trattasse di normale amministrazione, quando in realtà ci troviamo di fronte a un evento epocale. Il prossimo 25 ottobre sarà giunto all'interno della libreria Nintendo 64 dell'NSO più pacchetto aggiuntivo Banjo-Tui, il seguito di Banjo-Kazooie uscito nel lontano 2000 che non era mai stato riproposto su piattaforme Nintendo. Magari nel porocast ci dilungheremo un pochino sulle qualità del gioco confrontandolo col primo episodio, però qui, al di là del titolo in sé, abbiamo una notizia da non sottovalutare. Continua infatti la stretta collaborazione tra Microsoft e Nintendo che permette l'inserimento di questi titoli i cui diritti non sono più in mano alla grande N da quando Rare è passata sotto Xbox. E di questo passo possiamo sperare che prima o poi facciano il salto anche di K64, ma soprattutto il controverso Conker, che sappiamo non essere proprio un titolo in linea con quanto Nintendo pubblicava nei primi anni 2000, e che forse anche oggi stonerebbe un po' nella line-up di Nintendo Switch. Inoltre, siamo arrivati a un punto dove la libreria dell'NSO ha scavalcato qualsiasi offerta avuta in passato su virtual console simili, ed è forse il più grande portale legale mai avuto sulla storia di Nintendo. Direi che è quasi conveniente abbonarsi a un catalogo del genere. Quindi, per quanto potrà continuare ancora questa situazione idilliaca? Io temo sempre di più che con il passaggio generazionale potrebbe arrivare una ristrutturazione del servizio, anche perché all'orizzonte sembra esserci una novità molto interessante che si ricollega al test misterioso della scorsa settimana. Prima però, visto che stiamo parlando di Nintendo 64, dobbiamo parlare dell'Analog 3D. Ve l'ho presentato nel video breve di oggi, ma ve lo ricordo anche qui perché si tratta di un hardware sulla carta impressionante. Quelli di Analog hanno presentato la loro ultima produzione, ovvero una rivisitazione in chiave FPGA del Nintendo 64, chiamata appunto Analog 3D. Come tutte le loro precedenti console, come ad esempio il Pocket, questo 3D permetterà di utilizzare controller, accessori e cartucce originali su un sistema che riproduce fedelmente l'hardware originale, ma che l'ottimizza in chiave moderna, aggiungendo tante feature come un nuovo sistema operativo, un'uscita nativa in 4K, lo slot per le schede SD, il supporto al Wi-Fi, al Bluetooth e via dicendo. È come avere una versione moderna del Nintendone in grado di leggere nativamente qualsiasi gioco Nintendo 64 senza blocchi regionali, il che è una manna dal cielo per chi ha una nutrita collezione di cartucce. Considerate poi che l'emulazione Nintendo 64 a volte non restituisce il feeling originale e che soprattutto fare delle mod HDMI alla console non è affatto né economico né tecnicamente semplice da realizzare. E quindi il prezzo di 250 dollari per il 3D vi dirò, per me ci sta. È un prodotto premium, ma per quello che offre e per quelle che sono le alternative non mi sembra una spesa folle. Faccio solo due critiche a questa presentazione. I pre-order verranno aperti il 21, questo lunedì, e ancora non sappiamo nulla concretamente sulla console. Almeno un'immagine comparativa l'avrebbero potuta mettere su quelle che sono le effettive prestazioni di questo nuovo hardware FPGA. Così come poi il controller Bluetooth venduto a parte che non riproduce neanche il tricorno mi sembra veramente impersonale. Per fortuna si possono utilizzare i controller originali. Vi ricordo che pre-order apriranno questo lunedì e visto l'entusiasmo con cui vengono accolti i prodotti analog dagli appassionati il rischio del sold out immediato è altissimo. Quindi in caso tenetevi pronti. Io vi devo dire la verità sono stratentato di prenderla, però alla fine l'NSO è veramente comodo, no? Le cartucce originali mi rimangono così come la possibilità di giocare tutto con un'emulazione tutto sommato accettabile, che però è appunto un servizio in abbonamento che potrebbe sparire da un momento all'altro. Non lo so, sono molto combattuto, consigliatemi voi nei commenti. E appunto, chiudiamo continuando a parlare di NSO. I soliti matti che tengono traccia delle componentistiche che Nintendo ordina dalle fabbriche di produzione hanno tirato fuori una teoria molto interessante. Nintendo avrebbe messo in produzione dei nuovi controller Gamecube, questo perché i codici seriali delle nuove componentistiche corrispondono ai seriali dei motorini della vibrazione utilizzati nei pad Gamecube. E unendo i puntini, tante delle componentistiche accessorie ordinate sempre da Nintendo combaciano con le varie parti del controller cubetto. Ora, unite questa cosa al misterioso test delle funzionalità online di cui dovremmo sapere qualcosa in più, forse già questo lunedì, e anche ai precedenti rumor sulla periferica che rimandava al Dolphin, il nome in codice del Gamecube, e si fa sempre più plausibile l'idea dell'approdo della libreria Gamecube all'interno dell'NSO, magari solo in cloud, il tutto accompagnato da una ridizione del pad più bello di sempre. Sto sognando? Probabilmente sì, ma in caso, per favore. Fatevi gli affari vostri e non svegliate. E questo però c'è tutto per oggi, vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo e non mi resta di darvi appuntamento al prossimo video che arriverà quando arriverà. Voi nel frattempo, mi raccomando, fate i bravi, riposatevi dormendo sonni tranquilli, ma soprattutto nerdate duro. Io sono il poro di corsa, Michele Cube, ciao! Ehi ehi ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Poreon, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente nella creazione di video qua sul canale e in più ricevi in cambio delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo insieme a caccia di retrogame. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa! Cube